Musica Ciao ragazzi qui Lele bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo video dopo un po' di tempo scusatemi per l'inattività di questo periodo, di questi giorni ma ho avuto problemi privati e personali purtroppo alla vita e però ragazzi vabbè ora sono qui con la mia prima reaction del canale ragazzi questa è proprio una nuova playlist, una nuova categoria di video che ho deciso di fare ovvero le reaction, ovvero io guardo dei trailer insieme a voi e registro la mia reazione ai trailer questo video dovevo farlo anche quando è uscito il trailer ma ragazzi non ce l'ho fatta, ve l'ho beccata adesso 12 luglio, oddio adesso che sto registrando il 12 luglio quando lo vedrete magari il 13 o il 14 non l'idea comunque ragazzi ora sono qui per guardare insieme a voi il trailer, il nuovo trailer delle 3 del 2015 di Metal Gear Solid V The Phantom Pain visualizzeremo quell'ovain in inglese, completo il trailer completo e ragazzi manca un mese e mezzo più o meno all'uscita di Metal Gear Solid V The Phantom Pain e da adesso in poi visto che manca pochissimo all'uscita aspettatevi molti video su quest'ultimo quindi farò dei video magari delle analisi dei trailer, non ho idea oppure potrei fare sempre cose riguardanti The Phantom Pain ragazzi non ho idea comunque vi terrò aggiornati e ragazzi vado alle ciance, ciance alle bande direi di guardare insieme il nuovo e attesissimo trailer di Metal Gear Solid V The Phantom Pain via I was born in a small village I was still a child when we were raided by soldiers foreign soldiers torn from my elders I was made to speak their language oggi ragazzi eccolo with each new post my masters il mio idolo dei videogiochi eccolo big boss with each change i changed too ragazzi oddio quando ho detto change too sembrava divinita ma questo è il doppio di scala face mi sa time again con sui trailer diretto editato da hideo kojima Dio ragazzi la canzone è stupenda oddio la grafica è migliorata cioè hanno fatto un uno sbalzo di qualità di grafica allucinante rispetto ai vecchi trailer fateci caso ragazzi no dai il logo di kojima production senza scritto kojima ma fa un culo Konami cioè ragazzi queste cose vanno incazzare facciam anche se non si può finire guardate molto guardate molto ope ope aspetta il vecchio come si chiamava coltor che mi fa la vita in un mondo, diventano forti di alcune delle parti e che si usano per portare le persone insieme? Perciò l'occhio più grande? Occhio per occhio. Occhio per occhio. Guardate come combattere, madonna. Nell'ina dei suoi... Il mondo che il boss invidia finalmente diventa un reazione e questo farà la natura non ho capito. Pain for pain. Non ho capito delle... Ma è Paz! È Paz quella! Ma che cazzo? Ma non era morta Paz? Cos'è? School for school. Minchia che tette. Mi tiro quello che ho detto, sei brutta come la fama. Che cacchio è? Che cazzo sono zombie quelli? Oddio! Cos'è? Cos'è? Ma che cazzo è? Ragazzi è il trailer più oscuro di tutti. Una parola, ragazzi. Cosa ci fa sempre Big Boss con Scarface? Non spiegate? Eccolo ragazzi, Eli. Per spoiler non vi dico cosa c'è, ormai si sa chi è Eli, il bambino si sa chi è ormai Mantis, quello è Mantis di sicuro, capicolo, scusami, stai con la mente E' quiet, tu sai che sei figa Oddio, no è di sicuro lui, dopo sta scena che sale sul Metal Gear E' lui ragazzi, è Liquid, da piccolo, per forza, per forza Ragazzi sapete cosa vuol dire che non vedo fottosamente l'ora Cioè non vedo l'ora, la mia vita sociale quando esce sto gioco E' tutto, basta, non ho più vita sociale C'è un po' di musica che non stai dicendo, porca parte No ragazzi, quel bambino lì più onde è Liquid, ormai è confermato Cioè sale sul Metal Gear così, solo lì, dopo la sale su Oddio E' apparso, e' apparso Scarface come un fantasma Oddio Hai un po' di sangue addosso, Snake 1 settembre Cioè non vedo l'ora Attenzione Questa è Liquid, di sicuro Per forza E l'hai? E' Liquid Cazzo è un altro lì E' uguale No Ragazzi è confermato È confermato Les enfants terribles Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ragazzi Les enfants terribles E' il progetto Per fare i cloni su Big Boss Per fare Liquid Snake Solid Snake Les enfants E' tutti gli altri cloni ragazzi Les enfants terribles Gli esperimenti che hanno fatto su Big Boss No vabbè No 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 ragazzi Non mi vedo l'ora di sto gioco Voglio Questo gioco I need this game Per forza No vabbè ragazzi Epico ragazzi Epico Epico Cioè Ho i brividi Ho i brividi Non ho parole A me ragazzi Dispiace solo che adesso Per tutta sta roba Kojima Se short La Kojima production Ormai se short E' ufficiale Quindi questo è effettivamente L'ultimo capolavoro di Idyo Kojima E della sua unità Del suo staff Nei trailer Nella copertina Non c'è più scritto Kojima production Non c'è più scritto A Idyo Kojima game Non c'è più scritto Un Kaiser su di loro E ragazzi Questa è una boiata Allucinata Cioè proprio Un cacci in culo Ragazzi Che non meritava per niente Cioè Mi dispiace ragazzi Ma Questo qua ragazzi Sto gioco qua Il primo settembre Diventerà Il gioco più bello Che non sia mai stato creato Ve lo dico io ragazzi Questo qua sarà il capolavoro Di Di questa E della scorsa generazione Di sicuro ragazzi Ve lo dico io Allora ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel like Se così fosse Lasciate un bel commento Fatemi sapere Se ci sono esperti di Cioè Se ci sono fan Appassionati di Metal Gear Solid Come me Tra i miei scritti Fatemi sapere Cosa ne pensate di questo trailer Vi ricordo che Il prossimo video Potrebbe sempre riguardare The Phantom Bear Ragazzi Sinceramente Minecraft Ragazzi Vi dico la verità Non ho voglia di registrarlo Per adesso Non vi incazzate ragazzi Però per adesso Non ho voglia proprio Di fare gameplay Quindi Cercherò di fare video Così Un po' Interessanti Comunque belli da vedere Penso Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Commentate ragazzi Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti